Non perderti l'ultimo aggiornamento dell'As Roma. Kumbulla sorprende tutti con le scuse, mentre i compagni ringraziano. Ma che fine ha fatto Mu? Guarda subito tutte le notizie sul nostro canale. Più prima delle notizie, iscriviti ora per non chiedere le ultime notizie As Roma che pubblichiamo da queste parti. Kumbulla si scusa, i compagni apprezzano. Ma Mu? Marash Kumbulla chiede Venia. Il difensore albanese ha fatto le sue scuse ai compagni di squadra dopo aver lasciato la Roma in inferiorità numerica e causato per di più un rigore sciocco che hanno compromesso la gara contro il Sassuolo. Il giocatore, racconta oggi il Corriere dello Sport J, Aliprandi, è stato colto da un raptus quando ha visto Berardi, con cui aveva avuto dei precedenti, provare a scalciarlo nelle parti basse. E ha reagito nel modo peggiore. Ora però il difensore albanese teme che gli venga attaccata addosso la fama di picchiatore, o peggio ancora dello stolto. Sei un tifoso dell'As Roma? Allora assicurati di dare un'occhiata alle ultime notizie dal club più amato della Roma. Abbiamo informazioni esclusive e tutto ciò che devi sapere per rimanere aggiornato. Non perdere tempo e metti mi piace ora. Per non perdere nulla. Le scuse di Kumbulla alla squadra sono state accolte dallo spogliatoio, che ha apprezzato il gesto del difensore centrale, per il quale scatteranno non meno di due giornate di squalifica. Chi invece non ha preso molto bene l'episodio è José Mourinho, lo special one sa che quell'episodio è costato carissimo alla Roma in una partita che valeva tanto sotto diversi aspetti. L'allenatore poi si ritrova con la coperta corta in difesa, con Lorente acciaccato e Kumbulla squalificato, restano solo i tre titolari per il derby contro la Lazio. Altro particolare che non ha fatto felicissimo il portoghese. Tifoso conclusivo romanista giallorosso. Cosa ne pensi dell'episodio che ha coinvolto Kumbulla nell'ultima partita della Roma contro il Sassuolo? Il giocatore si è scusato con i compagni dopo una mossa controversa che ha portato a un rigore per l'avversario. È stata giusta la squalifica di due turni? E come si comporterà la squadra fare a meno di Kumbulla nella prossima partita contro la Lazio? Commenta la tua opinione sul nostro canale di Notizias Roma e partecipa alla discussione.